Un caro saluto, un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Su Repubblica, rotocalco turbo mondialista, voce del padronato cosmopolitico, compare un articolo che parla di feticcio della privacy. Segnatamente in relazione alle nuove modalità di riconoscimento facciale che vengono già in alcuni luoghi utilizzate, in nome si dice della sicurezza, il rotocalco turbo mondialista dice che quanti in sostanza si oppongono a questa nuova modalità rivendicando la questione della privacy in realtà usano un feticcio, quello della privacy, per delegittimare la ben più importante questione della sicurezza. Quindi ancora una volta, e non ce ne stupiamo, abbiamo con gli autoproclamati professionisti dell'informazione i più solerti e zelanti aedi del nuovo ordine totale e totalitario della società del controllo totale, quella di un capitalismo della sorveglianza che tutti ci scheda, tutti ci controlla, tutti ci sorveglia e che Savasandir, per giustificare quest'opera di intrusivo controllo onnipervasivo, chiama in causa le ragioni della sicurezza. Tipico paradigma neoliberale, per garantire la sicurezza dobbiamo ridurre le libertà, nel caso specifico controllare in maniera onnipervasiva stracciando ogni residuo a privacy. Questo è in sintesi il teorema messo in campo dagli agenti dell'ordine neoliberale e della società del controllo totale e totalitario. Già da tempo, tra l'altro, si usa porre una domanda, quanti abbiano qualcosa da eccepire sull'idea del controllo totale e sulla violazione della privacy? Hai qualcosa da nascondere? Questa è la domanda rituale che viene posta a quanti osassero ancora dire che non sono favorevoli al tracciamento, al controllo, alle misure panottiche, davvero potremmo chiamarle a ragion veduta con Jeremy Bentham. Cos'era il panopticon di cui scriveva Bentham? Era un dispositivo carcerario costruito in maniera così fatta da poter controllare in maniera totale e totalitaria gli internati. Ecco, la società del capitalismo e della sorveglianza sembra oggi sempre più simile a un'enorme struttura panottica, panopticon, una struttura che controlla tutto in maniera totale e totalitaria. E adesso che si vada verso la società del controllo facciale, giustificato Savassandiri in nome della sicurezza, è la prova provante di ciò che da tempo diciamo, sia il fatto che il turbocapitalismo, l'ordine neoliberale se preferite, stia ponendo in essere il più grande totalitarismo mai sperimentato nella storia. Sotto questo profilo aveva visto bene Pasolini quando diceva che il vero totalitarismo doveva ancora venire, stava ponendosi in essere con la società dei consumi e del controllo che stiamo sperimentando oggi. Insomma, il controllo facciale, giustificato in nome della sicurezza, è un ulteriore passo avanti verso la società di controllo totale e totalitario.